Fino a che punto Pallacanestro Biella possa lamentarsi della sfortuna è davvero difficile dirlo. I rosso-blu hanno grossi ed evidenti limiti, ma ultimamente la dea bendata sta facendo il possibile, quando possibile, per stenderlo un bel tappeto rosso che conduce alla salvezza. Le prossime due partite casalinghe vedranno i ragazzi di Cocezanchi ospitare al forum, prima i siciliani di Trapani, ridotti all'osso da infortuni e positività. Poi la derelitta Orzinuovi, che sta perdendo un pezzo dopo l'altro e ha già prenotato da settimane l'ultimo posto e la retrocessione diretta. Si comincia stasera con i Granata, che arrivano in Piemonte per un mini-tour che li porterà nei prossimi giorni anche a Torino. Perché evidentemente non è la sola Biella a dover giocare tante partite in poco tempo. Biella che reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta, con tre squadre obiettivamente di alto livello come Urania, Assigieco e Cantù. L'ultima vittoria risale al match casalingo contro Piacenza a inizio mese, che aveva dovuto sostituire nelle ore precedenti due giocatori infortunati. La lista degli indisponibili trapanesi arriva al mese prossimo. L'ex casalese Tomasini e il biellese d'adozione Federico Massone sono risultati positivi ai tamponi. I soliti tempi tecnici li mettono sulla lista dei giocatori in dubbio. Spalle, ginocchia e caviglia hanno tolto dal roster Palermo l'americano Childs e il sanmarinese Bjordi. Childs, soprattutto, sarebbe potuto essere un cliente molto complicato per il reparto lunghi di Biella. Trapani al completo è ingiocabile per il rosso-blu, ma al netto delle assenze i Granata sono riusciti a battere domenica la stessa Assigieco che aveva passeggiato qualche giorno prima contro Biella. Mai dire mai nel basket, specialmente in questo campionato di A2 livellato verso il basso. La sfortuna di Biella ha legge intorno alle giunture di Kenny Esbrook. A 35 anni e con tanta strada sul contachilometri è difficile parlare di mala sorte, un minimo di logorio e comprensibile. Ma dopo aver riposato contro Cantù è lecito aspettarsi che stasera sarà della partita, perché Trapani sanguina, l'americano è indispensabile e due punti servirebbero parecchio in casa biellese. Quella che ci attende sarà una settimana molto importante per la stagione, con due gare al forum in quattro giorni. Dovremmo essere pronti a una battaglia, consapevoli che vogliamo giocarci le nostre carte fino alla fine. Il sostegno del nostro pubblico sarà un'arma in più, ha detto il GM biellese Damiano Olla. Prima rinviata dalla pandemia a gennaio, poi dalla convocazione nazionale albanese della trapanese Taflai. La partita di questo anomalo infrasettimanale inizierà alle 20.30.